Un commento sulle minacce che hai ricevuto? No, ho già parlato, abbiamo interamente fatto la denuncia e così le autorità faranno gli approfondimenti per capire cosa si tratta. Io ho ribadito quello che è ovvio, che noi andiamo avanti con la massima determinazione e tranquillità perché stiamo facendo un'operazione importantissima con fortissima unità di tutte le istituzioni, di tanti soggetti, attesissima da tempo di riqualificazione di Torbella-Monaca con il supporto attivo della stragrande maggioranza degli abitanti.